super pizza buonasera, volevo una pizza per tre persone, me la fai te Michael? Senti che pizza mi fai? La margherita devo fare Senti ma voi fate sia pizze al taglio che da sporto, quali sono le pizze che vanno di più? Sono le pizze al taglio Ecco ma come gusti? Sì sì come gusti si fa tutti i gusti Ecco ma le persone di più che cosa mangiano a pistoia come pizza? La margherita fa tanto, però pizza bianca, pizza bianca con le pizze Senti ma a casa si riesce a tenderla a questo modo la pizza? Il pasto E l'impasto? Oh vabbè E il segreto per fare un buon impasto qual è? Eh quello ci vuole il mio fratello Ah il tuo fratello ho capito via Non lo vogliamo raccontare per video Il segreto deve nascere e morire in famiglia E da quanti anni è che stendi le pizze Michael? Due anni Leonardo è più di dieci Ci ha insegnato lui a tutti Quindi una tradizione di famiglia Eh sì, ci diamo anche una pizze di abonello Ah Anche a loro gli ha insegnato C'è l'altro fratello Non si nasce tutto lui Tutto lui Quella delle ragazze Ecco perché c'è anche da guardare al forno mentre si stendono delle nuove pizze Ciò vuole tagliare pronto? Sì Sì Guardate Guardate Pagliare Grazie Non so Non so se mi chiede Era meglio l'acqua Una entra una esce Qui è proprio un lavoro a catena anche se è tutto manuale Pagliare C'è l'iccola Diciamo C'è l'iccola Un plurinino Un po' di due È un po' di due Un po' di due Un po' di due Persona Un po' di due Un po' di due Un po' Un po' di due va bene io ti ringrazio Maiko vado a vedere se mi tocco una fetta calda ciao